vi aspetto nel cuore di milano il 14 febbraio che è una data molto facile da ricordare perché quella degli innamorati di san valentino alla storica milano art gallery in via lessi 11 che proprio nel cuore di milano e vi presenterò il mio libro albertone un uomo che ha amato tantissimo le donne le donne hanno amato lui però ha scelto di non sposarsi ci sarà anche anche il premio tamara de lempica che è una ricorderete tutti una pittrice geniale e rivoluzionaria quindi vi ripeto l'indirizzo e via lessi 11 nel cuore di milano alla milano art gallery con albertone